L'assemblea annuale dei centri di servizio, ci è stata chiesta una valutazione sull'attività dei centri di servizio. Per le fondazioni i centri di servizio sono stati un momento importante perché ci hanno consentito di incontrarci con il mondo del volontariato che fino ad allora era soltanto una richiedente erogazioni e le fondazioni un po' paternalistiche erogavano. La conoscenza con il mondo del volontariato ci ha consentito di impostare una serie di attività e di lavori insieme. Pensiamo alla fondazione Conil Sud che è un soggetto molto importante ormai in infrastrutturazione sociale del mezzogiorno. Ci ha consentito poi di passare da una fase di contrapposizione a una fase di accordi sia sulla gestione dei centri di servizio sia su altre tematiche e adesso si vorrebbe approfittare della crisi che non sempre porta aspetti negativi, qualche volta ne porta di positivi per passare dagli accordi alle alleanze perché le fondazioni fanno parte del mondo del terzo settore e vogliono continuare ad essere il sostegno principale di questo mondo.